Musica Tradizionale fagiolata di Roasio Passiamo subito a domandare alcune impressioni della popolazione Dunque Dunque, allora lei, lei qui viene a prendere i fagioli? Eh, sono buoni, siamo del paese qui e allora bisogna venire a prenderli Una piccola offerta per il carnevale Ah, l'avete messo, quella è sempre importante La cosa lì è importantissima Però bisognerebbe che tutti offrissero bene Eh, è vero, è vero Le cento lire non si paga il carnevale